Parco Ragazzi del 99, luogo frequentatissimo a Bassano del Grappa, venerdì pomeriggio c'è tanta gente, soprattutto giovani e bambini, tutto quieto sino a quando? C'era un gruppetto di ragazzi che avevano le bandiere arcobaleno e sono stati aggrediti da un altro gruppetto che assomigliava a una vera e propria gang. Ma li hanno aggrediti come? Allora uno di questi è quello un po' più accaldato, ha sputato contro una ragazzina, apostrofandola, non so se si può dire, sporca lesbica. Un'aggressione in piena regola solo perché questo gruppetto di amici giocava con palloncini e bandiere arcobaleno. Purtroppo un copione che pare ripetersi troppo spesso a livello nazionale e Bassano non ne è esclusa. I teppisti, tutti giovanissimi, si sono accaniti con odio contro i coetanei e sono stati fermati solo dall'intervento di alcuni adulti che li hanno allontanati dalla scena. È stata una scena bruttissima per i presenti, soprattutto perché erano davanti ai bambini piccoli. Ma non è finita qui, perché cosa è successo quando lei, estranea tutto, ha deciso di tornare a casa con suo figlio? Avevano lasciato un po' di bandierine per terra, mio figlio di tre anni ne ha raccolta una perché comunque a lui piacciono tanto i colori e uscendo dal parco il gruppetto, quello che aveva aggredito, è venuto verso di me e da lì sono partite le ingiurie, mi hanno dato della malata, della snaturata, mi hanno detto ma cosa insegna suo figlio, si vergogni e insomma là poi io giustamente difendendo il mio figlio che ha tre anni, cosa vuoi che ne sappia, ho cominciato a dirgli che sono dei maleducati, che non ci si rivolge così ad un adulto ma soprattutto ad uno estraneo. La cosa che lascia rabbrividiti è questo odio, questa rabbia, questa cattiveria da parte di giovanissimi. Sì, sicuramente questi sono ragazzi che vivono queste realtà anche all'interno, soprattutto della famiglia. Marusca Meneghetti vuole lanciare un messaggio di democrazia, libertà, soprattutto rispetto. Le persone quando vedono altre persone libere di esprimersi, di dire qualcosa, si chiudono in un muro e attaccano e basta. Non c'è scambio, non c'è modo neanche di potersi spiegare ed è bruttissimo adesso vedere queste cose. ignoranza, paura della diversità, incapacità di confrontarsi, di scambiarsi vedute e pensieri differenti. No, questa non è democrazia.